ciao visionari si parla spesso di innovazione questa parola così un po un po vaga forse un po vuota in particolare in italia è un piccolissimo aneddoto io due tre mesi fa ho chiuso la mia vecchia azienda e ne ho voluto aprire una nuova una start up una start up innovativa e l'ho voluta fare con un gruppo di commercialisti bravi notai che preparano tutte fanno tutto quanto online tutto in maniera telematica veloce perfetto bene discuto con loro prepariamo lo statuto decidiamo tutto quanto adesso prende pacchetto pim pum pam pronto registro imprese mandiamo e aspetta a una settimana massimo e ci daranno risposta mi dicono ok passa una settimana passano due passano tre passano passano due mesi e io sono qua e quindi cioè cosa cosa quindi non è colpa nostra mi dicono giustamente noi l'abbiamo mandata e stiamo in attesa che la nostra richiesta venga processata dal registro imprese da due mesi start up innovativa in due mesi in america fanno già una start up da un miliardo jet.com in quattro mesi è andata una capitazione da zero a un miliardo di dollari e io in due mesi sono qua ancora che attendo che la mia start up innovativa venga registrata dal registro imprese innovativissimo super innovativo allora chiedo ok va bene sono qua due mesi che aspetto nel frattempo ho fatto lavori senza poterli fatturare quindi gratis anticipando spese mie che non potranno essere rimborsate perché non potrai mettere nel bilancio delle aziende che come boh vabbè chi se ne frega almeno potrò fatturare quando avrò la mia partita iva posso aprire un conto in banca mi faccio pagare per il lavoro che ho fatto no non posso va bene sono passati due mesi persi completamente e ho tipo 5 6 cose da fatturare che non posso al momento però a breve arriverà la partita iva potrò quanto ci vorrà ancora non possiamo saperlo non possiamo sapere ci dicono un minimo di dieci giorni ancora però forse 20 magari anche 30 cioè ma che cazzo fanno questi qua registro imprese è tutto online quattro commercialisti ci hanno lavorato sopra è stato approvato dal notaio è tutto pronto ha seguito tutte le regole è uno statuto standard l'abbiamo spedito il registro imprese l'ha ricevuto ci ha detto che l'hanno preso in considerazione adesso devono solo approvarlo e darmi una cazzo di partita iva quanto tempo ci va a fare sta roba chi è io voglio voglio immaginarmi la persona che sta lì a processare queste cose e deve guardare dire ok o no che cos'è che sta bloccando il lavoro di questi ufficiali governativi che stanno lì e in due mesi non riescono a provare una cazzo di startup innovativa con uno statuto standard allora forse forse questo è uno dei motivi per cui in italia è difficile fare impresa uno che onestamente vuol fare un lavoro fatturarlo pagare le tasse non può farlo perché ci mettono tre mesi per approvare una cazzo di pratica scusate sono un pochino così perché quando aperto una startup a new york l'ho data il commercialista e in 24 ore avevo tutto pronto e potevo fare quello che volevo ecco questa è la grande innovazione le startup innovative dell'italia ad astra visionari 100% sono in Italia 100% è una cosa che non è un'ultima è una cosa che siostro è una cosa che non riesce 000